La fabbrica, la manifattura e il museo resteranno insieme a doccia e questa è una notizia importantissima perché appunto la fabbrica della bellezza, la bellezza e il lavoro che appunto da secoli si sono nutriti l'una dell'altra continueranno in questa positiva osmosi. Noi come regione e appunto ringrazio il segretario generale, l'architetto di Francesco, ringrazio il dottor Casciu del Polo Museale che appunto ha acquisito, diciamo, questo nuovo museo acquisito nel senso ha ampliato così il suo parco museico con questa nuova straordinaria acquisizione e appunto noi stiamo lavorando a questo accordo, abbiamo lavorato via a questo accordo di valorizzazione che è stato approvato ieri dal comune di Sesto, ieri mattina e ieri pomeriggio in giunta da noi e quindi siamo pronti prima di tutto a firmarlo ma la firma al ministero avverrà tra pochissimo e poi siamo pronti a lavorare appunto per il futuro di questo importantissimo museo. L'impegno della regione toscana da subito sia per il museo che appunto per la fabbrica sono sicura che continuerà anche nei prossimi mesi. Non vi voglio andagnare oltre e appunto passo la parola a Livia Frescobaldi alla quale si deve insomma tanto e soprattutto è stata una delle persone che più di tutto hanno contribuito a tenere sempre accesa i riflettori su questo straordinario patrimonio appunto della Toscana e dell'Italia. Grazie. Io veramente desidero come è stato fatto prima dal vicepresidente Barney sottolineare l'importanza di questo straordinario intervento da parte dello Stato nell'acquisizione del museo una procedura che ha richiesto, è estremamente complicata, che ha richiesto proprio l'intervento di due ministeri oltre a quello dei beni culturali anche quello dell'economia e finanza per questo desidero rinnovare, essere grata al ministro Dario Franceschini a tutti i suoi funzionari che hanno quindi lavorato con grande determinazione affinché venisse salvato questo patrimonio straordinario, unico al mondo e proprio per la sua anicità ha definito un complesso di eccezionale interesse storico-artistico e per questi motivi sottoposto anche a un vincolo pertinenziale e la collezione è notificata in blocco. Ed è proprio in virtù di questi vincoli e a seguito di un incontro con la nuova proprietà della Risciarginori nel luglio del 2014 dove emerse chiaramente che la chiusura del museo per loro non era un argomento all'ordine del giorno ma che la loro priorità era quindi di salvare posti di lavoro e di rilanciare l'attività aziendale che immaginammo un nuovo scenario per il futuro del museo dove per la prima volta nella storia della Ginori l'attività produttiva sarebbe quindi stata completamente indipendente dall'attività culturale e quindi questo è veramente un passo straordinario e in questo percorso il nostro primo interlocutore è stata la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ci ha affiancato sin da subito non solo tramite un confronto costante e costruttivo ma soprattutto dando la disponibilità di intervenire con l'importo di un milione di euro per la ristrutturazione dell'edificio una volta che si sarebbe realizzata quindi la fondazione pubblico-privata e che ci fossero state quindi anche delle garanzie di sostenibilità a questo progetto e soprattutto che avesse coinvolto anche altri finanziamenti. A questa si è unita Confindustria Firenze che nel marzo del 2017 per iniziativa del presidente Luigi Salvadori ha lanciato una grande raccolta fondi che in pochissime settimane ha riunito tantissime realtà imprenditoriali sul territorio importanti raccogliendo 600.000 euro. Questo importo di Confindustria è destinato a coprire i primi tre anni di gestione del museo e è stato veramente un atto straordinario che insieme a quello della Fondazione Cassa di Risparmio hanno così dato le basi per, insieme all'apporto ovviamente indispensabile delle istituzioni pubbliche, per ripartire con un progetto sul museo di doccia. Un progetto che avrà sempre bisogno di risorse private perché altrimenti non potrà sopravvivere e in questo ci auguriamo che l'introduzione dell'Arbonus, l'incentivo fiscale che appunto è stato voluto dal governo Renzi possa essere molto di incoraggiamento proprio per essere in linea con gli altri paesi europei che stimolano molto il mecenatismo privato a beneficio dei beni pubblici. Del museo di doccia mi ricordo di aver parlato delle difficoltà e poi della successiva azione di tutela mi ricordo di aver parlato a lungo con Alessandra Marino a suo tempo, soprintendente, che aveva dato l'avvio a quello che è stato uno dei vincoli in assoluto più complicati, più complessi, più difficili che io abbia mai visto perché non solo l'edificio ma catalogare, verificare, fotografare e tutelare con un provvedimento amministrativo insieme all'edificio quindi con questo vincolo di pertinenzialità un complesso di opere di questo tipo, di questa quantità, devo dire è proprio un'operazione molto ma molto complicata e quindi intanto a tutta la soprintendenza, oggi ad Andrea Pessina ma allora ad Alessandra e a tutti i suoi collaboratori e ai funzionari che oggi ho visto, perdonatemi non mi ricordo i nomi però insomma a loro credo vada attribuita perché ce l'hanno la gioia nostra di vedere tutelata l'intero complesso e quindi che ci ha dato quindi la possibilità poi di arrivare con un'azione di acquisto e quindi di acquisizione alla pubblica fruizione. Questa è stata una pietra miliare fondamentale però ricordavo questo nostro incontro per mail perché devo dire con molto piacere ho capito immediatamente che questo non era un semplice museo, una semplice collezione, un semplice edificio in abbandono da tutelare, era un qualcosa di più, era un qualcosa di più che era nel cuore delle persone perché esiste da dieci anni un'associazione che pone l'attenzione su questo complesso di beni perché poi anche tutta la comunità si è dimostrata assolutamente legata e si dimostra assolutamente legata a questo complesso di beni, alla fabbrica e al museo perché lì ci lavorano, ci hanno lavorato ed hanno prodotto da generazioni le ceramiche e quindi in questo senso credo che l'eccezionalità del bene merite, abbia meritato e meriterà tutti i nostri sforzi e in questo quindi sono assolutamente d'accordo con quello che lei diceva poc'anzi. Credo sia un fatto estremamente importante e anche che l'anno che abbiamo davanti venga utilizzato anche per il lavoro del comitato tecnico e abbiamo previsto di lanciare all'interno dell'accordo di valorizzazione perché non vogliamo e ce lo siamo detti ovviamente tutti che non sia una mera e semplice riapertura di un qualcosa che era chiuso che già di per sé è un dato estremamente importante ma sappiamo come un museo del genere per poter vivere ed essere valorizzato abbia bisogno di tanti aspetti. Quindi vengo velocemente alla prima questione che poneva Livia nella sua introduzione. C'è sicuramente un tema di rapporti e di contributo che il comune al pari della regione e del ministero ovviamente facendo le debite proporzioni rispetto alle dimensioni dei bilanci e di quelle che sono diciamo le possibilità che dovrà ovviamente e si impegna con l'accordo di valorizzazione a mettere a disposizione per la gestione e per la partecipazione alla fondazione che gestirà e valorizzerà il museo. Ma c'è anche un tema di quei valori in qualche modo intangibili che però sono fondamentali secondo me per la valorizzazione di un museo come quello di doccia che attengono alla valorizzazione del suo eradicamento sul territorio il rapporto con gli istituti scolastici e col mondo della didattica, della formazione, della ricerca che è fondamentale e che è uno degli elementi su cui si deve, può e si deve basare il rilancio insomma e la valorizzazione di un'esperienza come quella del museo o del museo di doccia. Questi sono sicuramente elementi sui quali ci dovrà essere grande attenzione da parte del comune in primis ma io vorrei e auspico che nella fondazione di partecipazione ci possa essere anche spazio in qualche modo per una gamba, lasciatemelo dire, popolare di partecipazione a questa fondazione poi insomma i mesi che vengono saranno densi di appuntamenti, di approfondimenti anche tecnici però credo dare la possibilità anche ai cittadini, ai tanti che hanno un passato di lavoro all'interno della Ginori insomma tra i cittadini sestesi quasi tutti hanno all'interno del nucleo familiare allargato un parente che ha lavorato negli anni passati o sta ancora lavorando all'interno della Riccia Ginori e ovviamente questo è elemento di grande attenzione nella popolazione ma così come sono tanti anche gli appassionati non solo a Sesto Fiorentino ma nell'area fiorentina, in Toscana nel mondo delle bellezze che ha prodotto nel corso dei secoli e degli ultimi decenni la manifattura Riccia Ginori quindi anche questo credo sia un elemento da mettere davvero a valore per questo grandissimo risultato quindi oggi è una festa quella che dobbiamo celebrare e sono molto onorata di essere qui con voi e sono molto contenta un doppio festeggiamento perché abbiamo anche i quaderni degli amici di doccia che sono giunti a dieci anni di attività quindi una rivista così importante per gli studi ceramologici una rivista così specializzata perché sapete che è dedicata agli studi sulla Ginori e che a mio avviso con tanta fatica perché lo sappiamo tutti le risorse sono sempre meno e gli amici che collaborano sono sempre impegnati in tante attività quindi questo appuntamento annuale è da tutti sentito e aspettato e secondo me questa rivista riesce in un certo senso a mettere insieme tutto un sistema anche di musei diversi lo vediamo poi in quest'ultimo numero che ha coinvolto poi il museo di Limoz e riesce a dare una qualità di ricerca, di studi e ora anche con il coinvolgimento dell'Università di Firenze credo che sia un ottimo obiettivo per quello di dare, di fornire uno strumento anche agli studenti per le proprie ricerche e per portare avanti un progetto di ricerca questo è fondamentale e quindi un plauso ulteriore a chi fornisce la regia di questa bellissima pubblicazione che come dico viene sempre attesa dagli studiosi di ceramica a parte questa parentesi breve vi parlo un po' della mia esperienza io sono circa 23 anni che lavoro nei musei ho visto diverse realtà museali sono passata dai musei civici di Verona alle istituzioni museali come Bologna e Ravenna e da otto anni sono alla fondazione MIC in qualità di direttore sono gestioni completamente differenti e dalla mia esperienza la fondazione è la gestione più agile più dinamica da un certo punto di vista rispetto ad altre realtà amministrative nei miei otto anni in realtà la nostra fondazione ha visto il passaggio di tre CDA nel senso che non tanto per problematiche quanto per un discorso anche legislativo come sapete all'inizio quando arrivai nel 2010 vi erano 15 persone nel CDA troppe assolutamente troppe poi ci fu la riforma delle partecipate per cui dovevano essere solo 5 fortunatamente e poi siamo arrivati con il cambio del presidente ad un nuovo CDA di tecnici prima di questo CDA attuale erano solo politici non ho nulla contro i politici infatti ognuno fa il proprio mestiere in un CDA di un museo così specializzato come il nostro va da sé che ci devono essere dei tecnici i politici sono nell'assemblea dei soci il CDA deve essere passatemi il termine poco felice il braccio armato dei direttori direttore amministrativo e direttore artistico e scientifico è importantissimo questo perché altrimenti la fondazione che è una macchina complessa molto complessa non funziona non può andare avanti in scelte anche in pratiche amministrative in scelte dal punto di vista della programmazione scelte manageriali scelte di promozione di comunicazione mi è stato chiesto di parlare soprattutto dei contro in realtà quindi è un mio compito è un po' ingrato cioè di raccontarvi un po' le criticità che ho incontrato quando lavoravo al museo non tanto per fare un elenco di lamentele così a posteriori ma per far capire che questo passaggio allo Stato è un fatto molto positivo perché non andavano bene le cose prima e quindi è questa nuova gestione che è ancora tutta da costruire comunque è una grande occasione guardiamola proprio con questa fiducia un'occasione per rilanciare un'istituzione che non aveva mezzi sufficienti per svolgere la sua missione in pieno che era oltre che conservare semplicemente far conoscere questa ricchezza straordinaria di contenuti che ha il suo patrimonio e una gestione che aveva un costo annuale di circa 200.000 euro ma che aveva solo 3.000 visitatori che sono pochissimi all'anno e tutte le attività educative erano estremamente limitate da questa carenza di risorse e da questa carenza di personale anche che avevamo quindi il valore di questo museo merita molto di più Grazie a tutti